Dopo la mara trasferta sul campo del Prato Sesto con la sconfitta per 43 a 23, l'amatori Reg Bialguero ospita in casa i Medicei Firenze. La formazione catalana vuole riscattare la partita di sette giorni fa in Toscana, quando si è pensato anche di poterla portare a casa, vista la buona prestazione di Bortolussi e compagni, nei primi 40 minuti chiusi con il punteggio di 14 a 23. Salvo poi farsi riprendere e superare dal Prato, che ha chiuso i giochi sul più 20. Domani, alle 15.30 a Maria Pia, arriva la formazione fiorentina, che staziona nella zona bassa della classifica, pari punti con Aquila e Primavera Rugby a quota 20. Una squadra, i Medicei, che sicuramente ha un valore più elevato della posizione occupata attualmente e che verrà in Sardegna per portare via punti. All'andata, l'Alghero vinse questo confronto in terra toscana e sicuramente domani vorrà bissare il successo per restare a contatto con le prime tre della classifica, che vede la Capitolina con 60, Catania 51, Prato Sesto 49 e Alghero 40. Paoletti dovrà ancora fare a meno di Pesapane e Fall fuori per infortunio. Non sarà una partita facile, così come tutte in questa parte finale di stagione, quando le formazioni lottano per la salvezza. L'appuntamento è per domani alle 15.30 sul campo di Maria Pia. Dirigerà l'incontro il signor Lorenzo Imbriaco di Bologna.